I dipendenti comunali hanno deciso di fermarsi indicendo lo sciopero, le modalità saranno definite a breve, ieri mattina si è tenuta un'assemblea organizzata dalle sigle sindacali. L'amministrazione comunale, da quanto è emerso, non ha dato seguito agli impegni assunti, mancano ancora le indennità di performance dal 2020 e fino al 2023. Nonostante le indicazioni che erano arrivate in precedenza dallo stesso sindaco, non è stata ancora sbloccata nessuna somma. Le progressioni orizzontali e verticali non vengono garantite dal 2014. Uno stallo ormai intollerabile per i dipendenti del municipio che devono già sostenere un carico di attività sempre maggiore a causa di una carenza di organico preoccupante. Noi attendiamo ad oggi le premialità dell'anno 2020, ma poi manca ancora il 2021, bisogna definire il 2022, ci sono i contratti decendrati del 2023 che devono essere ancora sottoscritti, ci sono le normative che i contratti nazionali che sono stati sottoscritti nel 2022 che sono entrati in vigore nel 2023 che prevedono una serie di privilegi in favore dei dipendenti che sono utili soprattutto come le progressioni di carriera, che ancora non vengono applicati, regolamenti da definire. Ci sono tante cose che bisogna fare compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione. Sappiamo che l'amministrazione sta vivendo un momento particolare e siamo tutti coscienti, i primi siamo noi, ma noi vogliamo aiutare l'amministrazione, ma dobbiamo anche avere il nostro ritorno. L'amministrazione sottolinea come debba esserci anzitutto un assenso degli organismi di controllo, ma dipendenti e sindacati non possono che notare una certa disparità di trattamento rispetto ai dirigenti per i quali invece le indennità vengono sempre assicurate. Riflettori puntati su un evidente rimpallo tra OIV, segretario generale e collegio dei revisori, che danneggia però solo i lavoratori, ormai stanchi di attendere e che ormai vanno verso lo sciopero. Oggi i dipendenti sono un po' stanchi, vogliamo essere riconosciuti i nostri diritti, vogliamo essere riconosciuti quello che la legge prevede, quelli che gli istituti contrattuali prevedono e tutto quello che noi abbiamo concordato con l'amministrazione. Noi abbiamo i contratti firmati 2020, 2021 e 2022, ad oggi non sono stati riconosciuti indennità contrattuali firmatari con questa amministrazione. Questo è il nostro oggi stato di agitazione. Come andrà avanti lo sciopero? Lo sciopero intanto stiamo partendo perché l'Assemblea oggi ha deliberato la sospensione di tutte le attività straordinarie dell'Ende, si faranno regolarmente le ore concordate contrattualmente, tutto quello che riguarda straordinariamente nulla. E poi stiamo facendo le comunicazioni alla Prefettura, all'Unità di Garante e a tutte le autorità a fine della programmazione della giornata e allo sciopero. La crisi finanziaria del municipio intanto non aiuta allo sblocco di un'avvertenza che potrebbe paralizzare le attività negli uffici municipali. All'inizio dell'Assemblea è stato osservato un minuto di silenzio in memoria dell'ispettore di Polizia Municipale Totosauna, deceduto la scorsa settimana.